Un lunedì senza ombrello. Perché questo titolo? Curioso, bizzarro, strano, incomprensibile. Eppure tutti desideriamo un lunedì senza ombrello. Perché? Il lunedì è il momento del progetto. Lunedì mi metto a dieta. Da lunedì vado in palestra. Da lunedì cambio lavoro. O ancora peggio, da lunedì cambio vita. E ancora, lunedì lo chiamo, lunedì oggi non ho voglia. Vi riconoscete? Ci riconosciamo tutti in questi lunedì. Anche la protagonista di questa mia storia ci si riconosce e vede nel lunedì la metafora di un domani migliore. Ma e se questo lunedì fosse accompagnato da un cielo terzo? Nessuna nuvola, niente pioggia. Anzi, un sole che regali positività. E allora un lunedì senza ombrello.